Il progetto Viaggio in Italia, che porta i giudici costituzionali in alcune scuole italiane, è un progetto nato dalla collaborazione fra la Corte Costituzionale e il Ministero dell'Istruzione. Il Ministero dell'Istruzione ha il ruolo di supporto logistico, perché organizza i luoghi in cui si realizzano poi le visite dei giudici e la finalità principua è non soltanto di celebrare i 70 anni della Costituzione, ma di trasmettere un messaggio importante ai ragazzi delle scuole sul significato della Costituzione, sulla attualità, sull'importanza, sui diritti e sui doveri che nascono dalla Costituzione. Quindi sollecitare le loro sensibilità e la loro cittadinanza attiva, come si suol dire. Ma c'è un altro punto, è un obbligo che la Corte Costituzionale avverte, è quello di rendersi aperta, di rendersi istituzione trasparente, disponibile al dialogo, nel rispetto dei ruoli istituzionali, quindi talvolta nel rispetto della riservatezza, ma pronta ad accogliere le domande e a rispondere. La nostra Costituzione è ancora una bellissima Costituzione, è scritta in modo esemplare, ci sono passaggi ancora molto attuali, molto vicini alle persone. Tutti i testi giuridici a volte hanno bisogno di essere riscritti. Come e se debba essere riscritta la Costituzione non aspetta a me dirlo. Questo istituto, il Denitis Pascali, è stato scelto a seguito della nostra partecipazione all'inaugurazione dell'anno scolastico 2017-2018 che si è svolta a Taranto. In quell'occasione i licei artistici della Regione Puglia sono stati coinvolti nella organizzazione dell'evento e questa scuola, il Denitis Pascali, il liceo artistico, è capofila a livello regionale dei licei artistici della Regione. Per cui abbiamo dato un nostro contributo che evidentemente è piaciuto ai partecipanti, e partecipò ovviamente il Presidente della Repubblica. E quindi il Ministero e in questo caso la Corte Costituzionale ci hanno individuato per poterci rendere testimonial di questo progetto Legalità di modo che lo si possa poi anche diffondere, appunto perché è capofila regionale, anche diciamo nelle altre scuole. E anche i nostri ragazzi che sono stati individuati sono stati presi un po' dalle varie classi del liceo artistico, di audiovisione multimediale, di grafiche, di arti figurative, di architettura, in maniera tale che possano poi propagare questo progetto presso i compagni. Ovviamente è stata l'occasione per approfondire questi temi importantissimi della legalità, lo studio della nostra Costituzione che è piena di questi principi fondamentali che bisogna sempre tenere vivi nella cultura e nella preparazione dei ragazzi. Si è fatto accenno durante la mattinata anche a tante difficoltà che si incontrano perché appunto questi diritti e anche doveri siano sempre rispettati e il richiamo bellissimo del giudice Sciarra stamattina a una serie di articoli della Costituzione sicuramente rimarrà impresso nelle menti dei ragazzi che hanno partecipato perché la cosa più importante, come abbiamo visto anche dai video stamattina mostrati, è che questi incontri danno dei seri stimoli ai ragazzi che poi in effetti ci riflettono, creano e insomma credo che sotto gli occhi di tutti stamattina abbiamo visto un bel risultato anche tutto sommato la spontaneità, la sincerità con cui i ragazzi si sono rivolti alla giudice, la fiducia che la giudice ha dato stamattina perché ci sono certi temi importanti come appunto quello del lavoro che dai giovani chiaramente è molto sentito magari con una punta di preoccupazione e però il messaggio nostro di scuola è sempre quello noi ce la mettiamo tutta nel dare una formazione, chiediamo ai giovani la collaborazione appunto e la partecipazione a che questa loro formazione diventi un dato reale e poi cerchiamo anche di aprire loro delle piste nel mondo, in Europa diciamo e nel mondo in maniera tale che poi insomma come ce l'abbiamo fatta noi ce la faranno sicuramente anche loro noi siamo fiduciosi e stamattina abbiamo avuto una bella testimonianza è un'iniezione di fiducia da parte della giudice che ci ha rappresentato così bene questo organo, questa corte costituzionale che forse sembrava fino a ieri piuttosto distante invece l'abbiamo vista davvero oggi tra noi così vicina e questo è stato veramente un bel momento che ricorderemo. Ho trovato questo incontro molto interessante e altamente formativo perché innanzitutto ci ha dato la possibilità di avvicinarci a degli enti che magari molto spesso noi giovani sentiamo distanti e soprattutto abbiamo toccato delle tematiche molto attuali quali ad esempio la disparità tra uomo e donna e quindi argomenti che comunque ci toccano anche in prima persona e ci ha dato la possibilità quindi di chiarire, di approfondire e di relazionarci davvero in prima persona quindi mettere in evidenza quella che è davvero l'importanza della comunicazione tra i giovani, gli studenti con appunto enti come quelli che abbiamo avuto oggi quindi è stato davvero un incontro fantastico. È stato un incontro molto ricco, ricco di informazioni e diciamo spiegazioni che al giorno d'oggi servono molto a noi studenti in quanto abbiamo notato come c'è questa profonda vicinanza tra un'entità importante come quella della Costituzione a noi studenti che molto spesso ci sentiamo lontani da queste tematiche e quindi abbiamo avuto modo di poterla approfondire in maniera diretta e non magari soltanto attraverso lo studio o comunque attraverso quello che ci viene detto dai nostri docenti. L'appuntamento qui a Bari è stato per me molto emozionante perché Bari è la mia città e ritornarci in questa veste mi riempie di orgoglio. È stata una giornata straordinariamente esaltante se posso usare questo aggettivo perché le domande che ho ricevuto, a parte l'attenzione che ho notato fin dall'inizio ma le domande che ho ricevuto erano molto puntuali, molto precise senza altro mi faranno riflettere anche nei prossimi giorni e mi rincuorano perché talvolta si sentono giudizi forse un po' approssimativi su questa generazione di giovani quelli che incontro io sono molto preparati, carichi di entusiasmo io mi auguro solo che non si spenga questo entusiasmo e che quindi succedano delle cose positive nelle loro vite.